la natura e c'è proprio nessuno ciao ragazzi allora intanto vi dico subito che seconda uscita dopo la quarantena c'ho un fiatore dalla madonna mi fa male le gambe, mi fa male le braccia mi fa male la schiena è un qualcosa di indescrivibile ho fatto una sola discesa sono massacrato ovviamente solite cose sito nuovo ebike4enduro e il canale iscrivetevi c'è il 3% extra con lo sconto in descrizione e oggi abbiamo provato le ginocchiere che dire sono praticamente come un guanto, non si sentono ce l'ho ancora su, sto guidando ho parlato, ho camminato ho pedalato in salita sempre tenendole su purtroppo si infilano non si possono mettere e togliere ma sono leggerissime e proteggono ho preso due o tre sassi con la ruota davanti che me l'ha tirato contro il ginocchio e uno contro lo stinco fortunatamente che hanno una forma abbastanza allungata e coprono anche un quarto un terzo di stinco la ginocchiera copre non fino a qui ma fino a qua giù ecco qua i sassi giusto qui arrivano speriamo che non mi arrivano qua che non c'è niente ma lì dopo c'è un altro tipo di ginocchiera queste sono le più comode di tutte le trovate sul sito ovviamente si aggira intorno a un'ottantina d'euro il prezzo ma sul sito c'è il 10% di sconto e più quello che prendete qua sotto via si prenderà un buon prezzo competitivo bene oggi sono tornato sulla mia pivot stiamo testando le ginocchiere liat è incredibile che sembra di non averle ce l'ho su da un'oretta messe su c'è tutta una striscia siliconata che non le fa scendere hanno perfettamente la forma del ginocchio bene giornata della madonna oggi dunque i ginocchiere che andiamo a provare sono queste qui adesso li andiamo in discesa non si muovono è come non sentirle la cannata non si muovono ahah a 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 che faticaccia bella qua bella adesso che si è pulito per bene le foglie sono praticamente scomparse e viene fuori una figata è sempre bella davvero un po i rami che ho scesi dall'alto per aprire l'uno in testa anche qua bella 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 uuuh ottimo a 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 bello bello a a a